Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Una tragica perdita ha colpito il panorama musicale italiano, lasciando tutti sgomenti. Il talentuoso cantautore trentino Michele Cristoforetti, a soli 36 anni, ci ha lasciato dopo una breve ma intensa lotta contro la leucemia. Una malattia di cui aveva appreso solo alcuni mesi fa. Nato a Davio il 14 gennaio 1987, Cristoforetti ha iniziato la sua carriera nel 2005 all'interno di una band formata da amici, successivamente rinominata Cascade. La band ha rapidamente acquisito notorietà in tutta la provincia e oltre. Il talento di Cristoforetti è emerso in modo evidente quando ha intrapreso la sua carriera da solista, accumulando un vasto seguito e esibendosi in oltre 500 concerti e 5 tour. Tra le sue esperienze più significative, Michele Cristoforetti ha dedicato esibizioni a illustri figure come Fabrizio De Andrè e Cico Forti, ex bellista e produttore televisivo detenuto negli Stati Uniti. La sua carriera ha raggiunto un culmine di gioia quando è stato scelto da Vasco Rossi per aprire i suoi concerti a Trento, Ancona e Milano lo scorso anno. La tragica notizia della sua leucemia ha interrotto il suo percorso artistico e la sua vita in modo improvviso. Nonostante la diagnosi di una forma aggressiva di leucemia, Michele ha continuato a lavorare al suo nuovo album intitolato Esagerato. Pochi giorni prima dell'annuncio della sua morte, si era sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Michele Cristoforetti ci ha lasciato il venerdì 10 novembre a Padova. Il suo funerale si terrà martedì 14 novembre alle ore 11 presso il sacro cuore della città Veneta. La sua prematura scomparsa rappresenta una dolorosa perdita per il panorama musicale italiano, ma il suo spirito e la sua musica resteranno vividi nei cuori dei suoi ammiratori. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!